Mi chiamo Valerio Alloi, sono uno studente del primo anno del dottorato dell'Università dell'Isubria, ho partecipato a questa Summer School sui polinomi ortogonali e le funzioni speciali. La mia esperienza è stata un'esperienza, prima di tutto, internazionale, dato che sono uno dei pochi studenti italiani. È stata una scuola, un corso dove ci sono stati molti tools e strumenti diversi di cui una persona si può affacciare, capire le forze, i diversi argomenti e le diverse tecniche per affrontare un argomento così vasto che è appunto quello affrontato dalla scuola.